Ciao ragazzi! Il weekend è alle porte, quindi belli carichi per andare a divertirsi, ma chiudiamo la settimana con la presentazione di due dispositivi che ho fra le mani. Ovvero, eccoli qua, sono il P20 Lite di Huawei e Honor 9 Lite, il brand cugino di Huawei. Quindi, due smartphone interessanti, andiamo a vedere un po' cosa contengono le dotazioni e poi andremo a vedere anche un po' i telefoni, così, un'infarinatura. Eh sì eh, eccoli qua i nuovi Honor 9 Lite e P20 Lite di Huawei. Cambiano le scatoline a livello di colore, ma il contenuto, ve lo farò vedere fra un attimo ragazzi, cosa volete che cambi? Qui stesso sacchettino che contiene lo smartphone, stessa spillettina collocata allo stesso modo. Notiziona, nell'Honor 9 Lite abbiamo anche una cover trasparente, ma non l'apprezzo molto perché è rigida ragazzi, ho l'impressione che togliendo lo smartphone troppe volte potrebbe rovinarsi. Quindi, manualistica e caricatore e cavetto di connessione USB, micro USB con auricolari, che vi faccio vedere fra un attimo. Se non mi incarto, accidenti, accidenti, polina, eccolo qua, l'auricolare di Honor 9 Lite. Mentre sul P20 Lite, manualistica, connettore, cavetto di connessione al computer USB, vediamo, vediamo, vediamo. Uh, Type-C, attenzione, Type-C non micro USB e auricolare, quindi dotazione molto molto simile, se non che il cavetto è con uscita Type-C invece che micro USB. Abbiamo visto le dotazioni, che sono queste, non ci resta che vedere gli smartphone. Tadà, eccoli qua, colorazione nera per entrambi, li vado ad attivare. Non ho impostato alcun tipo di impronta, quindi sono così come li vedete. Stesso tipo di animazione nello sblocco, voilà. Quindi, un Honor 9 Lite piuttosto classico nelle forme, con un display in 18 noni, con un pochino di bordi, con la doppia cam sul frontale, la doppia cam sul posteriore. Insomma, un telefonino accattivante, ma ancora più accattivante è lui, il P20 Lite. Perché? Perché ha il notch, ragazzi, iPhone, Apple, detta scuola, fa scuola e quindi Huawei ha pensato di inserire questa particolarità in questo nuovo medio di gamma. Un display sicuramente più apprezzabile dal taglio classico di Honor 9, ve li faccio vedere anche un pochino a seconda di varie angolazioni. Quindi, direi che la particolarità sta soprattutto in alto, dove su Honor 9 Lite troviamo tutto palesemente in orizzontale, senza alcun tipo di difficoltà. Qua avremo delle difficoltà. Perché? Perché non ci stanno tutti questi indicatori. Bisognerà fare una scelta. Quando arriveranno tante notifiche, si riempirà tutta questa casellina in alto. Possibilità, magari, di andare a mettere il 50% della batteria, insomma, la percentuale all'interno della barretta, per risparmiare un po' di spazio. Insomma, sono cose che vi dirò più approfonditamente nella recensione. Altra caratteristica di P20 Lite, guardate un po' il taglio, il taglio del display. Qua su Honor 9 Lite è un taglio, diciamo, ad angolo retto, quindi non abbiamo stondature. Huawei preferisce stondare il suo display. Quindi, guardate un po' l'armonia scocca display, che reputo molto importante al giorno d'oggi, anche perché sul posteriore si somigliano tutti. Vado a girarvi gli smartphone, ma, ragazzi, guardate un po' le differenze. Si passa da una doppia cam in orizzontale a una doppia cam in verticale, con lo stesso oblo che sblocca il telefono con l'impronta digitale. Doppie cam che si comportano, chi lo sa come, lo vedremo nella recensione. Io intanto vi do questa infarinatura. Guardiamo anche un po' la versione software a cui siamo arrivati, menu a tendina identico tra i due, tra l'altro. Vi faccio notare come sia particolare anche vedere lo scorrimento, insomma, il taglio del bianco con il notch. Veramente, ormai, un effetto che sembra iphoniano da quel punto di vista, ma dobbiamo abituarci anche a vederlo su Android. A livello di aggiornamenti siamo alla pari. 8.0 sia iMotion UI sia la versione di Android su entrambi. Cosa cambia, ragazzi? Cambia magari che il P20 Lite è più sottile rispetto a Honor 9 Lite, che è più leggero di qualche grammo, quindi si porta meglio. Che ha il notch, ovviamente ve l'ho già detto, e che ha una RAM maggiore. 4GB contro 3GB, 32GB di memoria, 64GB di memoria. Il marchio delle rispettive case è riportato in basso per entrambi i dispositivi. Abbiamo la barra di navigazione su entrambi e stessi tasti, vedete, accensione e volume rocker, come dicono alcuni YouTuber. Stesso slot per inserire le SIM. In alto il secondo microfono è presente solo sul Huawei P20 Lite, mentre in basso abbiamo il jack per le cuffie, la porta micro USB contro Type-C e il microfono di riproduzione altoparlante. Tutto questo per dirvi che il P20 Lite ha un costo di lancio di 369€, Honor 9 Lite ha un costo di lancio di 229€. Stesso processore Kirin 659 Octa-Core cambia ovviamente le fotocamere, cambia la RAM, cambia l'archiviazione, cambia la forma del display. Quindi, che dire ragazzi, il frontale del P20 Lite magari fa fare wow, che display ganzo sto guardando, il display di Honor 9 Lite più un display classico non fa gridare alla novità, diciamo. Quindi ragazzi, due smartphone interessanti, li andrò a provare nello specifico, anzi ve li faccio rivedere anche sbloccati, eccoli qua. Lì andrò a provare nello specifico, non mi resta che darvi appuntamento fra qualche giorno quando ne vedremo delle belle. Ragazzi, buon fine settimana a tutti!